Ciao a tutti sono Gianni bentornati qui sul mio canale per questo nuovo episodio della serie domenicale pillole di Fire TV Stick nel quale oggi vedremo insieme come abilitare premendo una particolare sequenza di tasti, in realtà un solo tasto sul telecomando, uno dei menu nascosti che personalmente uso più spesso. Prima di proseguire però come sempre se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo. Pur essendo indubbiamente software di gestione della Fire TV Stick molto ben fatto in alcuni casi è più comodo avere a disposizione un unico menu riassuntivo che racchiude al suo interno tutte le funzionalità più importanti senza dover ogni volta ricordare un percorso diverso quando basterebbe semplicemente premere alcuni secondi il pulsante on per aprire il menu di sistema che consente di accedere molto velocemente ai profili, alle applicazioni installate, poi si può anche mettere in standby la Fire TV Stick quando abbiamo finito di usarla naturalmente così da risparmiare un po' di corrente elettrica, poi si può anche attivare la funzionalità che consente di trasmettere lo schermo ad esempio da un PC, da un telefono oppure da un tablet sulla tv passando per l'appunto per la Fire TV Stick una funzionalità questa che come sappiamo può essere davvero utile e al contempo estremamente semplice da usare. Selezionando invece l'ultima casella entreremo velocemente nel menu impostazioni il che concluda che questa velocissima pillola di Fire TV Stick io come sempre vi auguro una buona domenica sera ci vediamo alla prossima ciao da Gianni